fatto è meglio che perfetto puntata 37 può essere già 37 dai non ci credo posso aver fatto tutte queste puntate 37 giorni allora tempo fa ascoltavo un podcast ecco da dove poi nasce il nome il nome del post ma che sto dicendo cioè fermo Walter che mi stanno arrivando messaggi di tutto mi arriva di tutto guarda il casino ricominciamo 37 puntate tempo fa ascoltavo un podcast ecco perché oggi ho chiamato il podcast così e gli altri chi sono perché ascoltando il podcast di tovazzi per gli amici tova raffaele dice beh sì tanti fanno i podcast però dopo sette puntate mollano poi vabbè c'è qualcuno che arriva a venti ma poi si fermano la e invece io sono andato avanti e oggi sto facendo una prova perché l'altro giorno ho avuto dei problemi diciamo con il microfono che si sentiva poco spero che questa volta sia sia migliorato di fatti non vedo l'ora di finire la diretta per controllare se sono riuscito a migliorare la qualità chissà e nel mentre vi parlo di anzi ti parlo ti do del tu perché sei tu che mi ascolti questo è importante ricordarsi di dare del tuo e non del voi perché voi è come si va bene parla tutti e invece è te sto parlando con te e ti sto dicendo che ci sono altre persone al di fuori di me è vero ci sono altri personaggi che fanno dei podcast meravigliosi e uno di questi è raffaele tovazzi che però fa un podcast molto lungo dura due tre ore alle volte è veramente veramente lungo lui io l'ascolto in velocità doppia in maniera tale che le sue due ore le sue due ore passino in un'ora e dopo di che ci sono tanti altri personaggi perché te lo dico perché fatto è meglio che perfetto vuol dire che puoi migliorare e come fai a migliorare ascoltando gli altri ascolta gli altri guarda come fanno gli altri nel mio caso ci sono altri podcaster prendo esempio da dam croniali che ha scritto un libro sul podcast e poi però posso parlarti di alessio beltrami che ha tenuto un podcast che ha fatto 201 puntata di cui dalla centosettantesima in poi è andato online su youtube mentre io ho fatto il contrario ho incominciato su youtube e poi mi sono tolto ho detto no voglio solo la voce mi interessa che tu mi veda voglio solo ed esclusivamente voce che tu mi ascolti allora il consiglio che che ti do è quello di ma ascolta gli altri ascolta podcast che non hanno a che fare con la tua vita perché troppe persone cadono nel tranello di continuare a seguire sempre le stesse cose cioè il tuo argomento e marketing è cosa fa marketing 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 bello nulla da dire bello anche a me piace ma ascolta un filosofo ascolta qualcuno che ti parla di sport ascolta qualcuno che che faccia qualcosa di diverso e invece no marketing 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 o altre altre io trovo che la maniera migliore per migliorare quella di farti contaminare da più persone un po da me perché in qualche maniera magari riuscirò a darti degli spunti per migliorare ma io sono sicuro che lo puoi trovare dappertutto puoi trovare tante persone e quindi quindi vai alla ricerca vai e cerca dei podcast alle volte non devi star lì a cercare uno apposito mettili random senti la voce ti piace lo ascolti c'è uno molto bello che ti consiglio molto bello molto probabilmente ascolterai lui non ascolterai più me ma non me ne frega perché io voglio dare fatto è meglio che perfetto una delle cose belle di fatto è meglio che perfetto che non guarda i numeri non me ne frega quanta gente mi ascolta non me ne può fregare di meno sono felice che tu mi ascolti ma non me ne frega un cazzo di quanta gente mi possa ascoltare ho un unico obiettivo esternare cose che io all'interno e portarle fuori perché ti insegno un trucchetto allora devi sapere che il nostro cervello ha una serie di neuroconnessioni cerebrali continue il che significa che ogni nostro pensiero è semplicemente una scossa quindi non esiste una scossa passa e non si sente quindi tu non riesci a tirare fuori dei concetti perché perché passano all'istante allora cosa fai una delle maniere è quella di tirarle fuori voce la voce esce il tuo orecchio sente e dice ma cosa ho detto ho detto questa roba non ti credo no io ho detto questa roba così intelligente no eppure è così allora parlando io tiro fuori cose e in queste cose io in qualche maniera miglioro faccio una seduta psicoterapeutica con me stesso non ho bisogno di un psicologo cosa fa il psicologo ti dice parla e tu parli ecco qui è uguale prendi e parli parli e tiri fuori cose che possono essere utili alle persone magari ma è utile a te ma che cacchio te ne frega di star lì a con le persone che devono no è un podcast non ti piace esci allora c'è questo podcast ti dicevo che si chiama talent bay minchia che figo lui è veramente un figo il mio problema è che troppo spesso non riesco a organizzarmi nell'ascolto quindi devo organizzare meglio la mia giornata dire guarda la mattina mi ascolto i i podcast o il pomeriggio o la c'è mettere un momento e questo ti permette veramente di migliorare a livello cosmico mi verrebbe da dire sai che io un giorno faccio un tè ogni giorno metto un tè ogni giorno metto un pezzettino sai che non mi ricordo se l'ho fatto oggi credo di sì sai che forse non l'ho fatto mi sono dimenticato stamattina perché sono andato in città e non l'ho fatto che brutta persona insomma tocca farlo adesso no non l'ho fatto e vabbè lo farò adesso vedi ogni mattina faccio un tè dal giorno adesso mi è sfuggito mi sono dimenticato che miseria adesso devo recuperare per un tè del giorno è un modo per uno per me e guardare gli altri ogni giorno un formatore diverso una persona diversa io miglioro come persona come fai a non capire come cazzo fai essere così ignorante a non capire no no non sto parlando con te tranquillo sto parlando con quella con quel voi con quegli altri tu tu no io so che tu se mi ascolti se mi ascolti è normale che tu ascolti e guardi ogni mattina un tè dal giorno che il canale su telegram lo so inutile che te lo dica ci mancherebbe altro no no sono gli altri che come fanno essere così ignoranti e stupidi non riuscire a prendersi dieci minuti un quarto d'ora per ascoltare qualcuno che gli potrebbe cambiare la vita no no non abbiamo tempo non possiamo devo lavorare quando un ted te lo puoi ascoltare nel mentre ti siedi sul tuo trono al mattino per quei dieci minuti ti guardi un ted e ma no non si può devo guardare facebook devo guardare storie su instagram che male che siamo messi ragazzi che male che siamo messi e quindi il mio consiglio è vai su spotify cerca podcast e ascolta ascolta dario vignali dario vignali un mostro bravissimo bravo ascolta alessio beltrami raffaele tovazzi walter claim can talent bay che non so chi è non mi ricordo il nome ma è molto bello e poi ce ne sono tanti altri tanti che secondo me ti danno l'opportunità di migliorare basta una cuffietta una neanche due una pensate basta una cuffietta solo non hai bisogno di un impianto stereofonico high high fi si diceva una volta no no una cuffietta ti metti una cuffietta ascolti sei in autobus sei in metro ascolti ma noi in metro la gente gioca a candy crash gioco a candy crash giusto e poi lo stato dovrebbe fare e tu sei là che giochi a candy crash aspettando che lo stato faccia ma non tu e voi quegli altri quelli che non sono qui in questo momento ci mancherebbe altro vabbè sai che ti dico ti dico che vado a ascoltarmi qualcuno perché io ho detto già troppe cose ci vediamo domani ciao a tutti e buona giornata fatto è un bello perfetto questa era la puntata numero 37 37 38 39 40 Grazie a tutti.